Nella settimana dal 20 al 26 febbraio in Sicilia si è assistito ancora a un netto decremento delle nuove infezioni, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi casi positivi diagnosticati sono stati 1.380. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Trapani, Messina e Palermo. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle degli over 90, tra gli 80 e 89 anni e tra i 70 e 79 anni. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del DASOE, il Dipartimento per le Attività Sanitare e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati, con positività congomitante da Covid-19. Più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati. Per quanto riguarda i vaccini, i dati sono aggiornati al 28 febbraio. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,39%. Sono 61.970 i bambini che risultano con il ciclo primario completato, pari al 20,11%. Nel target over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,99%. I soggetti che hanno completato il ciclo primario sono l'89,61%. I cittadini che non hanno effettuato la terza dose, pur avendo maturato il diritto a riceverla, sono ancora 1.120.658. I vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.773.984, pari al 71,23% degli aventi diritto, incluso il target 5-11 anni. Le somministrazioni di quarta dose sono 247.718, di cui 213.449 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 9.779.